Approvato dal Parlamento europeo il quadro finanziario pluriannale, i deputati hanno dato il loro consenso al bilancio europeo 2021-2027. Il Parlamento ha ottenuto 15 miliardi di euro in più per finanziare programmi che riguardano la sanità, ricerca, cultura e per la politica di migrazione e asilo. Abbiamo un bilancio storico per un momento storico, ha detto il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Questo bilancio destinerà un terzo delle sue risorse alla trasformazione verde dell'economia nel segno del Green Deal, della trasformazione digitale, della sostenibilità sociale. Con questo voto può partire il piano Marshall europeo. Approvato in via definitiva anche il regolamento volto a proteggere i fondi europei dai governi che non rispettano lo Stato di diritto. La Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha assicurato che sarà applicato dal 1 gennaio 2021. Secondo Salvatore De Meo, eurodeputato di Forza Italia, l'approvazione del bilancio del Recovery Fund rappresenta una ripartenza per le imprese cittadini europei. Un obiettivo che sembrava caratterizzato da mille difficoltà dopo il veto posto dall'Ungheria e dalla Polonia. Invece il compromesso, il buonsenso, la responsabilità ha dimostrato che insieme si possono raggiungere grandi risultati. Per l'eurodeputato del Movimento 5 Stelle, Fabio Massimo Castaldo, il voto del Parlamento è stato decisivo per il futuro dell'Europa. Non soltanto ci stiamo dotando di strumenti e risorse fondamentali per ovviare le conseguenze di questa pandemia, ma aggiungiamo anche un passo in avanti con l'emissione di debito comune che colma un vuoto strategico per troppi anni, sottolineato soprattutto dal nostro Parlamento. Il Parlamento europeo ha approvato un pacchetto da 47,5 miliardi di euro per contribuire a mitigare gli effetti immediati della crisi da Covid-19 nelle regioni dell'UE. L'iniziativa è stata approvata con 654 voti favorevoli, 23 contrari e 17 astenuti. Gli aiuti saranno erogati attraverso i fondi strutturali dell'Unione. Sono stati stanziati 37,5 miliardi di euro per il 2021 e 10 miliardi per il 2022. Le operazioni sono ammissibili al finanziamento dall'1 febbraio 2020, con effetto retroattivo, e le risorse possono essere spese fino alla fine del 2023. A ottobre 2020 la produzione industriale è aumentata del 2,1% nell'area euro e dell'1,9% nell'Unione europea, rispetto a settembre 2020, secondo le stime di Eurostat. Nel mese precedente l'aumento era stato dello 0,1% in area euro e dello 0,3% nell'UE. Nell'ottobre 2020, su base annua, la produzione industriale è diminuita del 3,8% nell'aerozona e del 3,1% nell'Unione europea. Il biometano e l'idrogeno in Europa avranno un ruolo chiave come gas rinnovabili per gli obiettivi di neutralità climatica al 2050 e di abbattimento del 55% delle emissioni di CO2 al 2030. È quanto emerge da uno studio pubblicato dal Consorzio che riunisce 10 aziende europee di infrastrutture gas, tra cui Sdam, e due associazioni attive nel settore del biogas e del biometano, tra cui il Consorzio italiano Biogas. Entro il 2030 la quota di biometano nelle reti europee potrebbe arrivare al 5-8%. Nel settore dell'idrogeno stanno nascendo numerosi progetti per accrescerne l'utilizzo nell'industria e nei trasporti pesanti, oltre ad agevolarne il trasporto nelle infrastrutture gas.